È un entusiasta, aveva parlato anche con entusiasmo di Renzi, è deluso da Renzi o sono gli italiani? No, non sono deluso, non è proprio luogo di parlare del problema più piccolo dell'Italia che è la politica. Parliamo di robe importanti oggi, cioè già perdiamo un sacco di tempo per la ristruttura.